A disposizione ci sono 25.000 euro, che possono diventare anche 35, di finanziamento destinati a piccole attività, dell'artigianato, del commercio o altro ancora, magari per investimenti in macchinari o ristrutturazioni. Il microcredito, l'iniziativa a sostegno delle imprese messe in campo dal Movimento 5 Stelle grazie ai tagli dei compensi dei parlamentari, a Gubbio passa al secondo round dopo la positiva esperienza del debutto, che ha permesso ad esempio di premiare in poco tempo la snellezza della procedura e una caratteristica del progetto, idee imprenditoriali scelte sulla base di business plan e delle descrizioni dettagliate presentate. Oggi parte il secondo round del microcredito a Gubbio, dopo una prima esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso, che comunque ha portato ai risultati, quest'anno anche grazie a una maggiore conoscenza che abbiamo di tutte le procedure, grazie alla collaborazione preziosissima dell'acceleratore di imprese del comune di Gubbio e grazie anche alla collaborazione di diverse banche locali contiamo di incrementare di molto la platea di coloro che riusciranno a ricevere dei finanziamenti. Ricordo che il microcredito è rivolto al finanziamento di piccole attività e comporta l'erogazione di un massimo di 25.000 euro, che poi possono diventare 35.000 se l'attività va bene, garantite dallo Stato. È una garanzia di prima richiesta, quindi la garanzia è molto buona per l'80%. Ne possono usufruire piccoli artigiani, commercianti, anche già chi ha un'azienda vuole comprare un macchinario, una macchina o ristrutturare delle cose. Quindi abbiamo messo a punto una procedura molto snella e molto agevole, chiunque avesse la necessità di attivare un tale tipo di finanziamento si può rivolgersi o al proprio consulente del lavoro o all'acceleratore di imprese joint.